Ben trovati con il TG Liss di Telebari. Non ho mai incontrato né conosciuto l'avvocato Giacomo Olivieri, suo suocero, il medico Vito Lorusso e non ho avuto alcun ruolo nella faida di Iapigia nel 2017 né nella gestione del clan negli ultimi anni. Sono sostanzialmente queste le parole pronunciate dal boss Savino Parisi, capo indiscusso del clan del quartiere Iapigia, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Alfredo Ferraro. Savinuccio ha scelto di rispondere alle domande del giudice e dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Bari, Fabio Buquicchio e Marco D'Agostino, che hanno coordinato la maxi-indagine sul presunto intreccio tra mafia politica e mondo economico della città. Nell'inchiesta, infatti, che due giorni fa ha portato all'arresto di 135 persone e contestato anche il reato di voto di scambio politico mafioso. A beneficiare dei voti della malavita sarebbe stata la moglie dell'avvocato ed ex consigliere comunale Olivieri, Maria Carmen Lorusso, con il contributo anche del padre, l'oncologo Vito Lorusso, insieme sono agli arresti domiciliari. Terzo e forse ultimo rinvio per la seduta di rinnovo ed insediamento delle commissioni consigliari permanenti alla Regione Puglia. La decisione è stata presa in sede di conferenza dei capigruppo, dove i rappresentanti della maggioranza hanno chiesto un'ulteriore settimana di tempo per giungere ad un accordo. La minoranza, che inizialmente aveva chiesto la convocazione ad oltranza, dopo le sollecitazioni della Presidente Loredana Capone, ha accolto la decisione del rinvio. È da giugno 2023 che le commissioni dovevano essere rinnovate. Il nodo resta quello di azione. Il Movimento 5 Stelle dice no al rientro in maggioranza dei consiglieri del partito di Calenda. Hanno posto un problema politico e chiesto ad azione di ritirare l'appoggio alle giunte di centro-destra. E adesso le altre notizie del TGLIS. Sul tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Prefetto Francesco Russo, è stato discusso il nuovo piano di impiego dei militari delle operazioni strade sicure, disposto dal Ministro dell'Interno, che prevede l'assegnazione alla città di Bari di un contingente aggiuntivo di 31 militari delle Forze Armate, di cui 17 per i servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili e 14 per il rafforzamento dei dispositivi di controllo e sicurezza nell'area della stazione ferroviaria. Nel corso della riunione, i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e le componenti delle Forze Armate, sono state definite le modalità di impiego del nuovo numero di militari che svolgerà attività di pattugliamento in Piazza Moro nell'arco delle 24 ore con turni anche notturni. A Mungivacca nasceranno 100 nuovi appartamenti, in parte con studentati e in parte case popolari. A questi si aggiungeranno altri 106 appartamenti a San Giorgio, oltre il finanziamento per riqualificare gli stabili dove sono attualmente presenti altre 96 famiglie. A dirlo è Piero De Nicolò, amministratore unico di Arca Puglia, riassumendo lo stato attuale delle nuove costruzioni e della ristrutturazione degli immobili dedicati alle famiglie che non possono permettersi un appartamento proprio. La Puglia è la regione più affollata di detenuti della nazione, con un tasso di sovraffollamento medio del 165%, a cui fa da contraltare la più bassa percentuale di poliziotti detenuti presenti della nazione. In questi mesi, se non anni, scrive il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, ha denunciato il forte aumento dei detenuti. I numeri, riporta il Sappe, sono drammatici. Un furto è stato scoperto nel rifugio per cani della Onlus Zampe Felici di Bitetto, nel Barese. I gnoti hanno portato via almeno 18 sacchi da 20 chili di mangime per cani, per gatti e varie lettiere. A darne notizia sui social è lo stesso rifugio. Ci abbiamo messo mesi per avere questo cibo, raccontano. Chiunque sappia parli. I volontari hanno postato un appello sui social affinché si possa risalire al colpevole del reato. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla Regione. C'è l'obiettivo di rilanciare lo stabilimento ex ILVA nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quando il sito sarà gestito. Me lo auguro da un player industriale importante e significativo che scommetta sul sito e quindi sul lavoro di Taranto per rilanciarlo e affermarlo in Italia e in Europa. Lo ha detto il Ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso incontrando i lavoratori e sindacati nel parlamentino del Consiglio di Fabbrica dello stabilimento dopo una visita agli impianti e prima di presiedere un vertice in Prefettura. Il personale della Guardia Costiera di Monopoli durante attività di pattugliamento del litorale ha individuato uno scarico abusivo che confluiva direttamente sulla spiaggia da una villa. Immediati accertamenti hanno consentito di individuare i proprietari dell'abitazione estiva che avevano abilmente occultato lo scarico sotto le scale che dal giardino della propria abitazione consentiva loro l'accesso diretto sulla spiaggia, spiega la Guardia Costiera. Le mareggiate degli ultimi giorni che hanno fatto crollare la struttura in cemento armato alla base delle scale hanno fatto riaffiorare lo scarico abusivo rendendolo visibile. Avrebbe aggredito in strada tre persone colpevoli soltanto di averlo incrociato per le strade del centro di Andria. In poco meno di tre mesi avrebbe picchiato due donne e un uomo. Ora il presunto aggressore è stato identificato e arrestato. Si tratta di un cittadino proveniente dalla Guinea di 27 anni che gli agenti delle volanti dell'acquistura di Andria sono riusciti a individuare anche grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza delle zone in cui sono avvenute le aggressioni. Si avvicina sempre più la nuova edizione di Nautico, il Salone Nautico del Salento che si svolgerà a Lecce Fiere in Piazza Palio nei giorni 1, 2, 3 ed 8, 9, 10 marzo prossimi. I battenti saranno aperti venerdì 1 marzo alle 18 con l'inaugurazione e alla presenza delle principali autorità e dei partner del progetto. Il giorno successivo ci sarà l'incontro dibattito con Antonello Salvi, campione italiano e mondiale di Big Game Pesca d'Altura. E con il TGLIS è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS